Il parco di resta di via Mincio a Montesilvano è stato restituito ai cittadini. Ai bambini in modo particolare che qui nell'area verde adiacente alla strada parco possono tornare a giocare in sicurezza dopo la sostituzione della pavimentazione. Oggi inauguriamo il parco marino di resta che non rappresenta soltanto un polmone verde, uno spazio dove i bambini potranno giocare su giochi nuovi in uno spazio completamente riqualificato, ma rappresenta anche tanto per il fatto che è stato intitolato al maresciallo di resta che fu tragicamente ucciso per mano di soggetti. Oggi è un momento anche per ricordare questa figura, siamo contenti di poterlo fare e siamo contenti anche del fatto che chiunque frequenterà il parco potrà avere memoria di una persona che ha dato la vita per il nostro paese e per la sicurezza della nostra città. Ammontano a 60.000 euro i finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione avuti dal governo per il terzo anno consecutivo. Dopo la riqualificazione del parco Giovanni Paolo II, più conosciuto come i Giardinetti e Parco della Libertà, sono stati portati a termine anche i lavori su parco di resta. Il parco è stato rimesso a nuovo, sono stati fatti degli interventi di sistemazione delle aree verdi, di sistemazione anche della pavimentazione che era diventata di velta e pericolosa, installazione di nuovi giochi, chiaramente tutti accessibili ed inclusivi ed è stato restituito decoro al mezzo busto del maresciallo di resta a cui il parco è intitolato con un bel tricolore al centro della piazza. Il prossimo step della riqualificazione delle aree verdi di Montesilvano riguarderà il parco Le Vele su Viale Aldomoro. Gli interventi sono volti principalmente a sistemare tutto quello che attiene il verde ed effettuare nuove piantumazioni, a rimuovere eventualmente degli arbusti secchi o comunque malati qualora ce ne fossero, ma in più linea di massima cerchiamo sempre di andare ad implementare, ad integrare la dotazione ludica delle aree dedicate ai bambini, sistemare eventuali arecani laddove ce ne sono o crearne addirittura delle nuove e fare in modo che tutto questo possa sempre essere accessibile a tutti quanti.